bentornati amici di clan of gamers stiamo in diretta con Matteo stiamo giocando a quake live scusate la coglionaggine però abbiamo anzi ha trovato questo gioco che ti riporta un pochetto all'idea degli giochi anni 90 il vecchio quake Matteo di qualcosa agli amici qui del canale ah ne la posso fare veramente a mezzo fa un po' ridere sta cosa perché vedi oltre a lui è quello che mi consiglia i giochi da giocare ma non è vero perché sono una gran cagata e te dico che esistono così provi te ah ecco quindi sapendo che questo video poi domani lo ritrovi sul canale facciamo qualcosa di creativo allora tu che mi capi tu stai io ancora non ho iniziato so tre ore pure io stai ora sono ricambiati ora sono rossi e tutti c'è pure una premia ma che ne so io sto a modalità spettatore per stare quanta stessi questo di istruzioni qua quake live ragazzi Matteo ma che devo fare devi aspettare che finisce la sessione è come un classico dominio ma che giocando voglio aspettare il quartier generale sul call of beauty per dire quando ti ammazzano In questo caso Dovente a partita iniziata Quando ti ammazzano Devi aspettare A me è quello tutto Uno o due rossi A me dice che sono pieni squadre Quando vado a fare join Fai join blu Auto join Non so Boh Io qui sto su Eh ma sotto mi scrive Che i team sono pieni Quindi sappiamo un del culo Mi sembra che in francese Voglia significare Che non giochiamo Aspetta eh Proviamo Aspettiamo un attimo Proviamo le nard Usciamo? Eh si Siamo pieni come oggi Un attimo Solo che proviamo Un'altra partita Mi la posso fare capisci? No Allora Per secondo UMW3CKS Per secondo che UMW3CKS Free for all Free for all mi piace Ma come te pare Play More challenge E proviamo Ci connettiamo Ci connettiamo Poi diventa un gioco Che ti da tempo Di capire che devi fare Eh ma proprio sì Infatti è uno di quei giochi Poco frenetici Sai che te volevo dire Se c'è un gioco Più veloce da fare A te De questo Ah Adesso è montato Sì Viornate da una montagna Occhio 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 Aspetta che t'aspetto Piastrozzo E mi ha seccato Chi stai Torbach Ecco Sto cercando ancora Di capire pure le armi Che c'ho Ma sei no schifo Tu te sei personalizzato tutto C'hai pure armatura Ma che vuoi Ma c'è un'arma non utilizzabile Ma qui si cambiano Le armi come un quick davvero Non è un quick filter Un quick vero Che c'ho qua Salute Ma non mi hanno seccato Ma che ti vuoi Contro tutti E so già due Io ne Ma guardate Io ne so uno Oh ecco Perché mi stanno Non so No Alle spalle Vabbè però Duro due secondi Ebbene invece io Ciao Ecco Ecco Gai mitraglietta Ma quando Bello Io sono tantinello ultimo Ma te nemmeno hai ammazzato uno Sì Però perché qualcuno Lava la carpe è stato Fino a tutti Ah ecco Che è al meglio Io sto cercando Di capirci ancora qualcosa Rosa Ma perché mi ha morto No ma è finita l'arma No non muo Non muo Complimenti Proprio Si capirà Ha preso l'armatura Ma se niente Poi sto fermo un secondo Perché questi Sì E che dove ti è Ma io questa armata Che c'è pari Ma è uno Ha seccato no Manco per morire Ma chi è questo Ha seccato uno Perché ci avrà avuto La lagge Ho ammazzato uno Ho ammazzato uno Grandissimo E sono morto Oh uno l'ho ammazzato Però Le cose Perché questi Noi vogliamo partire E andare a giocare con questi Perché stanno Anse sacco Ando su Ecco Che mi fanno Come lord de notte Comunque se anche a voi Piace come Insomma Vedete che noi siamo Dei pro gamer No Ma te di qualcosa E qui stanno Fanno più Scusa ma Sto Prendo comunque Ma Cioè Ma beh Regà Ma questo Con il fucino a pompa Ma secca Io non c'ho un'arma Qua dentro C'ho sempre la stessa Ma che fordì Questo è un cazzo De pay to win No Però C'è qualcosa Che veramente Non mi torna Mi ha sparato Mezza volta Eh Te sto Dì Te l'hanno Tutti Buggati Tutti Figurate Ti trovi Buggati Su Puglio Di Puglio Stentato Per far Sistema Questi stanno Come su Ariad Arna Mentre C'è ma Prata Giorgolai E come no Io si sto Sempre in due Saudisti Ah però Vaffanculo Struzzo Dai Vabbè Siamo entrati Pure dopo Però Capace che il primo Sta a accumular Armatura Da quattro ore De legno Cerca scuse Stai cerca scuse Per stare Oglia Stava a cercare Vabbè a questo Gli ho sparato Da dietro Ma no Stanno Un bando Ma che è sta cosa Colpa di sé È il gioco Che è fatto Ma è fallato È fallato Dai ma su Ma non si può Ma dai Come affatto Faccia un'altra volta C'è giocato Seconda Oh C'eva pure Armatura rossa Non si può prendere Vabbè Oh no Vabbè E qui Perché quando morire Ne fa uno Sono morto Pure da solo Che è sta cosa Uno stronzo Mentre stavo saltando Tra una conone e un'altra Mi ha sparato Mi ha bloccato A mezz'aria Sto cascato Di sotto E sono morto Cioè Te pare A te No ma perché Non mi esce Ne perché Non mi esce Non mi riesco Ehm Ah proprio Ma mi pare Che se sono Tantinello Avvelenati Su dei muri Perché hanno visto Ed un abboni Che Non mi ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto Solo io Andiamo bene Io per scappare Da quello Perché asco sempre Di sotto Bella sta mappa Soprattutto È immediato Devo dire Non muoiono Non muoiono È inutile È inutile Non muoiono Guarda questa Ma sono nato adesso È masicchato La doppietta La doppietta Andiamo a vista Ah io non riesco A ruonar Quando adesso Non sono nato Però io Tre l'ho crepati Con La cosa Fina La mitraglietta Perché è istantanea I bisù Ma meglio Però secondo me È quella blu Che spara le pallette Ma non c'è È arrivata da sotto Ma credo Di scredo Io qui mi vergogno Come un ladro Cioè da serie Ma che è Ma questo Ha pagato Qui a fianco E moro E faccio E mori Manco Manco sono più Classificato Io sto Bastante A cercare le armi Ma questi Ne spaccano più Non riesco a trovare un'arma Sai che Te non devi pensare Devi core Devi sempre core Di far solo questo Sì questo l'ho capito Per carità Però La cosa sta pizzando Questo è un gioco Che vorrei far Devi far tipo La porto Io aspetto Che qualcuno arriva Quasi a crepa N'altro E gli spatti Capito Questo è dietro Non posso Non posso Vabbè ma dai Ma non è possibile Io grebo con una botta Non è Non è Lo sai Che spesso Ti sparano Pure in più De ore E non te ne rende No vabbè Non esiste Io Io accanno Ragazzo Perché Non ho potuto il cazzo In una maniera In beregonda Non è possibile Mi faccio Guarda C'ho questo qua Tra l'altro Ho pure ammazzato Dai Ma fionnato De tutto Me ne ho perso Un'arma E questo Glato Minchia Minchia Che proprio Mi devo riabituar Proprio A giocare A un tipo De gioco Del genere No Devi lo dica Ma non così Inizia a giocare Mamma mia Sta piano Infarto Ma Senza coperture Devi solo muovere Devi sparare tutto Sì ma Io Nel fatto di muovere Mi sono d'accordo Il fatto è che Non faccio un tempo Mi fa più all'arma Perché c'è La gente Che già c'è là L'arma E tu Fai come me Ne ha porto Io sto sparando Stavo a giocare Considera Io mi riesco a vedere No E me lo sollevato da solo Veramente Questa giustizia divina Vabbè È come tutte le cose Ti impari Dove sto Ho messo da un'altra parte Ma c'avevo un'arma buona Ma hai fatto di partire Con l'arma del merda Ma che cazzo Vabbè Come prima prova Per giocare online insieme Diciamo che va bene Ecco Sì sì Me l'ho curato Poi non è finito Però Non mi dico che ti ho ammazzato No Sì Non lo so Siete tutti Tipo tutti uguali Non ho capito È quello Capito Ma io questa stanza Non ce l'ho io Io ho niente sotto Io ho niente sotto Ecco Trovo un'arma Vabbè Questo è bombadissimo Figurale Questi ci giocheranno Questi che faranno altri Gioca a questi Se c'è una miglia Deve semplice in gioco E se c'è la stessa cosa No vabbè Non posso spara Anni traietta E questo me spara col bazooka Dai Guarda Devo andare a prendere No Non mi dico No Non te lo dico Non sono stato di ammazzarlo Vabbè Mazzà che bella Mi dira la nappo E questo Ma è una botta Mi ha dato il culo Mi ha buttato di sotto Dai pure a me Ma che Eeeh I three two play del cazzo Quello l'ha ammazzato E l'ho convinto L'ha ammazzato io Non so se c'è quel cazzo Cioè io praticamente Faccio le pippe esomari Con sto Con sto fucile Devo direte quello che sto a fare Guarda 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 Mi muore Ma da la porta Se passa Ma vaffanculo Ci giustamente Da dove ho passato Mi ha dato la parete Ma una cosa Crepa Mi esisteva Oh Ho riuscito Forse a sesta un colpo Con il fucile a pompa L'unico fucile a pompa Che ho trovato A sesta un colpo Beh non è morto Comunque Però ho visto che lo piava Sto a settantaduesimo Su dieci Dici che è normale Ma poi c'è un'arma Che è umana Vedi che sto già messo a aspettare T'aspetta Non ti hai rispondo T'aspetta Non ti hai rispondo Come nasci Dove lo trovi da Eh proprio così In altri tempi Avrei già cominciato Avrei cominciato Oh Uno l'ho ammazzato Con un'arma buona Oii A beve No ho finito l'arma Che schifo Stai mi indurano un cazzo Ma dai ma questo Mi rispuga di sparare Ma che Devo rientrare proprio negli anni 90 Per far sto gioco No Devi diventare Deve solo fare una modifica genetica Per andare a giocare a sto gioco Ma perché mai ci capisco un cazzo Da dove sparo Eh dai Questa l'avanzata Eh vai Uno l'ho ammazzato Già ci metto tre ore a far punto Ma che ascolare Allora Questo qua è come spara Andiamo bene 19 19 No 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 Non c'ho l'arma Eh ma se avvisi Non penso che smettete in seguite Ha smesso Ecco un'arma L'unica arma decente che ho trovato di nuovo Dove sei? Io Me so seppellita almeno smettono di malmenarlo Sto a far finta di essere morto Qualcunno t'ho ammazzato io lo sai Sì Alle spalle Deso è corso appresso No Questo ha cascato Deso un'altra volta Maledizione Banti da culo Non ho persi una cifra Ma evitata qualshal ho preso no ma non mori però no però non moro non da vedere oh nila dream l'ho ammazzato però non abbiamo risargo o no sono sempre infinitesimo non so dove sto praticamente chi è? questo ho preso al volo con miss no sono caduto di sotto l'avevo ammazzato l'ho ammazzato di 3 un segreto fammi via la mano un posto rosso solo che se poi comunque in questo gioco è un pay to win il gioco è gratuito ma poi per migliorare te compri le armi baggate inizia la partita già hai mi sono sicuro 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 mi hai pagato per te una roba eccetera guarda che qua non avevo uno e poi non avevo un altro oh sono risalito ho fatto 4 kill mi sono morto 20 volte mi sono sicuro questo sta piazzato qua tutto il tempo dai io stai sei comparso sei comparso sei comparso la lista eh ti ho detto 4 20 il fatto che avrei 4 20 manca la prima partita ma non mi ha seccato tu dove stai? io ho to non lo so ma ho appena seccato uno che era le ricorte vedi mi è nato questo davanti con la pistoletta iniziale non ci fai una sega una proprio ma neanche una però se ti già cominci a prendere il fuggito a forma qualcosetta succede no ma come siamo morto? uff non lo so vabbè sant'ambrogio dove cazzo stanno le io ancora me devo imparare due cazzo ho preso un tempo un tempo dove stanno le dai ragazzi due del qua e due del là dei saluto a posto di faso su di te sto ammazzato? oh cioè può essere qualcuno mi ha crepato no io no mi hai fatto 3 vabbè ma è pieno di dirmi insomma vabbè devo appiazzare tutti guarda 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 nasco con questo davanti mi pare che sto a smadonna con quello più uguale stessa storia che stessi cazzo state ecco questa pompa no non mi vedono proprio no vabbè questo si è girato un attimo un secondo vabbè Vabbè Ma chi sto qua? No, e dai ne avevo ammazzato un altro e sono ricascato una lava, porco Mi sono suicidato 16 volte Io sto qui a faccarne la macella a questi, te ne dico Quella addirittura siamo cascati Ma cosa faccio a non ammazzarti se ti spara bruciapelo? Dimmi Del fucile devo averci Fucile protonico? Non lo so Se vado qua c'è la piraccia Ecco, uno di qua, uno di là Allora confiarmi, devo andare a prendere un'arma Non si capisce Guarda, ho tre punti su sette che non ho fatti, sono morto quattro volte Oh, uno l'ho ammazzato Mortacci vostri No, va porca puttana, ha cambiato l'arma e mi spara ancora così Mortacci vostri 531 Ne stai rimontato, dai No, ma guarda poi i punti rispetto a quelli che mi ha segnato Me ne hanno levati quattro, perché sono morto quattro ore da solo Questa merda Io devo aiutare il pezzo che la lava, solo che sta mappando Ma te l'hai capito com'è fatto sto posto? Eeeh, tutto in verticale No, non c'è sta l'arma Porca Sì, ma qualcosa l'ho trovata No, finita Eeeh Oh, 31-38 dei morti abbiamo fatto 5 kill e tu ne fatti 8 Allucinante Io devo smettere di scaricare però ecco che era che mi rompeva il cazzo Vedi che ping hai? 268, capire? Do te muovi, figlio? Dai, che mi hai riconunciato già Two matches would begin, went for more players Ah, però vedi pa Ah, perché stava scaricando Left 4 Dead Questa mappa però mi fa un po' schifo perché la cosa della lava mi ha rotto il tuo Oh! Eeeh Che ne so Il volume è il minimo Vieni a cacciare che è successo Ma che è? Oh Sì Mi dici che cosa è successo Come se il controllo del volume del gioco ha smesso di funzionare Benissimo Sto gioco c'ha un problema, eh Uno? Che è sta cosa? Devo uscire un attimo dal gioco Se è cato subito uno Oh? Eh? No, adesso Ho dovuto uscire un attimo morire Oh! Oh! Una certa ha presa e me c'aveva il volume del gioco ma è una cifra bassa Oh! Oh! Ma che è? Senti, c'è qualcosa di strano con questo gioco Sto strano anche perché siamo quattro e mi stavano ammazzati e mi diceva che il match doveva ancora cominciare a andare bene Ah! Poi il default ti dà subito un'armona Ma dipende quale che... Per me è sicuro quello del primo che avevamo provato ti ricordi che ti dava tutte le armi subito Eh? Magari io facessi sempre Per me è troppo frenetico ma sto a morire sto Io ci sto un po' a fare piano piano l'abitudine Nooo One Fight Che fight Ah! Ma non ce l'ho più L'arma non ce l'ho più Ma vaffanculo va Ecco Infatti Eh... Questo è quello che pensi di questo gioco Sto a provare a rientrare eh Ma perchè è romata? L'ho presa l'arma Oh... Bug su bug Comunque penso Perchè? Questo non si sa con che cosa mi spara Io ho la gelata al cioccolato Gli sparo col gioco Allora, dove sei entrato? Maffio mio non oso Come vuoi? Vabbè E che ne so Se ci avrò tra amici Brand list Torback Invite to match Ecco T'ho invitato Non so come ho fatto Vabbè Però t'ho invitato Oppure si ha fatto col pensiero Come va bene Eh, però... Ok, vai Ho fatto un cast a te Se non sto in condizioni steve lo sai Non era giocata a te le mie condizioni Sto a pieno infarto No, uno però sto ammazzato Tiè Tiè da under No, ma li crepi pure Però è vero che spesso ho crepati Perchè O non... O non giocavano O... Magari erano già stati... Ammorditi Sì Sì Ecco, l'avevo trovato e mi hanno ammazzato sull'arma Guarda, guarda, mi metti davanti Questo che ho messo qua E casco pure di sub Va bene Va bene, va bene Eh... Il posto aria per CanonGames.it sta provando a farsi massacrare Ecco Insieme a Thor, Baccalias, Matteo Oh, mi ha messo davanti un'arma, Matteo Come ho fatto? Come ho fatto? Preparo Va bene, va bene, va bene, va bene Ah... Ho messo di fronte un'arma L'ho ammazzato, non c'è credo Non c'è credo Non c'è credo, come ho fatto? Stavo a piacconarti No, stavo da solo Quello vedi Lo vedi Quattro damage 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 Dov stava dietro, bastardo Mi hanno ammazzato due Non c'è, due Vai ragazzo, vai Sono morto solo undici volte però Hai visto? Va bene Va bene, questo mi ha pure... Mi ha pure puntato Ecco, devi dietro Tutti chi stanno Quattro damage No! Dammi a te Ma non è che Non è che Sono ridato ce ne stavano tre Vabbè Me fate scappar Me fate scappar Me ne fate scappar Me ne trovo uno Aiuto! No, ero riuscito a scappar Chi mi ha ammazzato? Chi, sai che c'è? Quando entrano un botte dei giocatori Ecco Ah, un cazzo che ho visto... POMPA! Perché mi ha levato il fucile a pompa che avevo appena preso? Pieno dei bagni. Ma che cazzo che vende? È gratuito. Non c'è nulla da fare. Con l'arma iniziale, se non pido un'arma, tu ti ammazzi nessuno. Tu mi direi grazie a te, alzio. E io dirò pregato. Vabbè, ma non è quello. Questi stanno a dovere. Ah, no. Dammi l'arma, meno male, grazie. Niente, non muore neanche con l'armona. Perché? Perché? Dai, mi sono pure suicidato, capirai? Questo mi stava aspettando. Vabbè. Mastrita, ma vattene a fa' la culo, va. Quanto l'ho detto. Quasi, quasi. Quasi, quasi, te lo vi dico. Arrivate ne ha a fa' la culo un'altra volta. La prossima volta giocava dentro. Eh? La prossima volta, no, anzi, un'avventura grafica. Gioca a turni che mi fa avanti. C'è poi svegliata. Guarda, guarda, guarda. No. Sta più all'ansia. No. No. Vabbè, però, non riesco a capire, oh. Mi toccano per troppo, c'è... Tu. Tu puoi, garbola, che qui non c'è un'altra se la caletta è morta. Ecco, appunto. Come dico la parola morto, muoio. No, però ammetterci ho proprio difficoltà pure a stagli appresso. Che dici? Eh, quello mi ha fregato. L'unica arma che volevo prendere. Eri te. Bastardo, mi hai ammazzato te. Maledetto. Mi date un cazzo di arma. Dico, no. È un'armatura qua. Ma chi è? Vabbè, ma questo c'ha la stella come Halo. C'ha la corona in testa, tipo Halo. Non l'hanno preso per niente. Ma, io non mi ammazzato. Perché deve creare la lava? Vai a fare in più. Mi sono finito a non sparare, ma io non ci muoio. Vabbè, muoio adesso. Ma sì. Penso che i nostri amici, quelli che... Ecco, no, ammazzami. No, neanche reagisco. Guarda, uccidimi. Va bene. Tanto, io sono un atom, sto trovando a te davanti. Fallo. Fa me in merda. Accordamose con qualcuno. Giuro, sono disposto a pagare. Questi giocano veramente il tanto a questo gioco che stanno tutti i punti. Tutti i mesi stanno a merito. Prima, sono ammazzato. No, sono ammazzato. In due contro uno, siete forti. Bravi, bravi, bravi. Orvi, orvi. Eroi. Buon bisogno, saranno pure americani. Tanto io ogni volta quando lo si gode in gioco, la colpa è sempre da americani. Ma sì, vietela con qualcuno. Fai a mettere di essere un coglione. Massimo. Non vedete. Cazzo. Cazzo. Benato. Sono pescato di essere. Cazzo. Cazzo. Tantino generico? No. Cosa dici? No, vabbè. Ma io ho più l'armona. Ma andate a cagare. Bah. Io gli sto andando dietro a questo per te. No, puttana la schifosa. Vedete quanto passa da quando faccio respawn a quanto mi ammazzano. Mettimi, mi raccomando, e mettimi vicino sempre al nulla. Cazzo mi sparo. No? No. Saranno puntato. Ma vaffanculo. Nel tempo che cambi l'arma l'hanno ammazzata, già. Dai, eh. Io sarà che pure sto pure decoccio io, che ancora non mi sono imparato. Lo sponano le armi. Ho ammazzato Strida, il pezzo di merda numero uno. Strida, ancora Strida. Strida, sì. No, non mi sparava, dai. Strida, tieni. Intanto la soddisfazione che ti ammazzato ce l'ho. Il primo pezzo di shit. Vabbè, ti ti aspettano comunque. Io direi che questo gameplay può pure bastare, ma a te. La faremo un altro, il prossimo. Ma che ne fa un altro? Ma chi te sei in culo? Paga qualcuno. Sei contento, insomma, di provare questo gioco? No, te pica, però, te metti a dotarci da cazzo. È troppo immediato. Ma se ho visto i sequenzi a prendere, pure delle armature e cose un pochino riesce. Non ammazzati due, all'ultimo. Non ammazzati due, all'ultimo. Non c'è credo, non c'è credo. E volevo anche abbandonare questa bellissima partita. Miii, questa bella partita che ho voluto abbandonare. Ma noi non ce stiamo nemmeno. No, noi stiamo sprofondati di sotto. Non si sa... Ah, forse giù, andando giù. Ah, sì, io sono ultimo. 6 kill e 31 morti. Tu con 5 kill e 24 morti. Sei morto meno di me. Alla prossima, ragazzi. Ciao, raglanowgames.it